è arancione è molto più grande di voi che pensate quanto è lungo quanto è grande è un po piccolo ma ha dei buchi in testa per mettere la carta formosissima ecco cartigianica bellissima torista cartigianica poi il cibo cucciolante primonti c'è il formaggio bello caballo poi ha i buchi per mettere le mani che io scrivo sempre per mettere comunque ha dei problemi mentali vabbè sentite potete mettere le mani se mai dovessi incontrare morti su una ragazza e su un impostore questo è finito di fare i amici e di mettere pure la carta in cerca sporca di merda rispettatevi sono un po' di olito rimontiamolo cercate di essere il più veloci possibile la scuola la scuola la scuola la scuola